Noi siamo A2A, un'azienda che da tantissimi anni si occupa di acqua, ambiente e energia. Stiamo lavorando molto sulla transizione ecologica e sulla transizione energetica. E come si fa a fare questa transizione energetica nel nostro paese? Occorre certamente avere aziende come le nostre in grado di mettere le risorse e la capacità tecnica, ma occorre anche una grande condivisione di visione con i nostri clienti, con i nostri cittadini. Al centro di questa alleanza tra clienti e azienda per la sostenibilità c'è lo sviluppo di nuove fonti rinnovabili per raggiungere il cosiddetto net zero dal punto di vista delle emissioni carboniche. È un percorso importante che richiede un dialogo continuo tra aziende, cittadini e istituzioni che operano sul territorio. Noi di A2A e molti mesi, che è quasi un anno, che produciamo campagne che aiutino le persone nelle buone pratiche quotidiane. Questi comportamenti hanno un impatto positivo sulla nostra spesa, sulla nostra capacità di risparmio e sicuramente sull'ambiente che ci circonda. Perché la sostenibilità non è una parola vaga, ma è un susseguirsi di concreti atti quotidiani. Noi due è un'offerta realmente innovativa perché è un patto tra noi di A2A e i nostri clienti e anche coloro che non possono installare un impianto presso la propria abitazione possono partecipare concretamente a questo processo. Grazie a noi due finalmente tutti possono diventare i protagonisti della rivoluzione più necessaria di tutte, l'autonomia energetica del nostro paese.